Che ormai il poker fosse il nuovo trend dei VIP non era in dubbio, tanto da condizionare anche i rapporti di coppia fra le star più famose, dalle litigate tra Totti e Dilaly a quelle tra Crune ed Elisabetta. Ma adesso anche le donne si appassionano al Texas Hold'em, disciplina del poker sportivo che trova sempre più estimatori nel nostro paese. Dopo lo strip poker di Pamela Camassa durante un servizio delle Iene con una partita gestita al meglio da Marco Berri per la felicità di tutti i telespettatori, questa sera Francesca Fioretti, ex geffina ed ex fidanzata di Ferdi, farà da madrina la trasmissione I Signori del Poker, in onda alle 22.30 sul canale Poker Italia 24. Girato a Milano il 18 maggio in occasione della presentazione ufficiale del nuovo Team Sisal Poker Pro, I Signori del Poker è un reportage nel mondo dei professionisti del poker sportivo che spiegheranno nel dettaglio cosa fa un giocatore di Texas Hold'em.